buonasera contadini come state allora oggi si parla di permacultura che ieri ci ha bruciato facebook la diretta un andato c'era un certo punto si è fermata e basta e poi finiamo di seminare le patate che ho fatto appena in tempo ieri a farvi vedere i due tipi diciamo di modalità di e di tipologia di patate che andiamo a seminare quindi facciamo quello e poi facciamo un minimo di semina dei fiselli ok quindi due semi nell'orto sinergico oggi e la seconda cosa parleremo come sempre di uno dei filoni della dell'agricoltura ecologica oggi sarà la permacultura vediamo un po intanto se qualcuno si butta in diretta prima di partire vediamo un po se arriva se arriva qualche d'uno perché facebook in questi giorni fai capricci se vediamo le cose non funzionano da domani si fa il video così dribbiamo le dirette in questi giorni ce n'è a bizzeffe vero vediamo se qualcuno si collega vediamo un po dopodiché si parte intanto io prendo gli attrezzi del mestiere oh ecco ecco arrivano i pelle grande pelle perfetto c'è anche il secondo via via ora vedrai che vi buttate vanessa ciao come stai eccoci qua già in cinque ale via via silvana grande super costante Elena buongiorno e via allora cominciamo vai siamo già a 7 8 si parte allora in premessa avevo detto oggi parleremo e Marco grande Marco il mio cugino mondiale allora oggi come già detto in premessa parleremo della semina in orto sinergico perché ieri ci ha segato la diretta facebook e parleremo della permacultura anche questo era in finale diretta invece ce la siamo persa allora per fare una bella cosa sapete che si fa si comincia proprio dalla permacultura come sapete ogni giorno per qualche giorno parleremo di uno dei filoni dell'agricoltura ecologica siamo partiti dal descrivere le tre leggi che ve lo farò uscire dalle orecchie sono aumentare la fertilità aumentare la biodiversità e non utilizzare chimica di sintesi e ora andiamo a vedere tutti i modi di fare agricoltura e quindi anche gli orti che rispettano queste tre leggi la prima volta avevamo visto masanobu fu cuoca e l'agricoltura naturale oggi vi parlo della permacultura perché l'ho messa dopo il buon masanobu perché david home green e bill mollison due australiani matti come i cavalli hanno preso da masanobu fu cuoca le idee che lui aveva sviluppato con l'agricoltura naturale e le hanno applicate non solo nell'agricoltura ma in un sistema di progettazione che hanno chiamato permacultura come dico sempre bambini nelle scuole nelle paroline c'è tutto quindi andiamo a vedere perché permacultura vuol dire cultura permanente e una cultura permanente secondo loro si poteva fare solo con un'agricoltura che rispettasse le tre famose regole ciao silvana ciao stefano grandi mi state collegando ancora in diversi dicevo appunto che rispettasse queste tre queste tre regole ma non solo coltivando anche progettando case recinte recinti pardon muri impianti energetici eccetera allora andiamo a vedere e vediamo un piccolo esempio di questa roba qua una delle leggi naturali è quella che ogni elemento fa più cose ha più funzioni in sé per esempio l'albero faccio sempre fare questo questo esercizio qua a tutti i gruppi eccetera un albero in genere riusciamo ad arrivare tra le 18 le 22 funzioni diverse quindi le dinamiche legate all'ossigeno all'anidride carbonica al cibo che può produrre al legno eccetera eccetera intanto ciao roberta ciao salvatore ciao sandra quanti siete salvatore ciao da cubano grandi ragazzi da cuba abbiamo visto fra l'altro che sono arrivati una cinquantina di medici e specialisti cubani a dare una mano anche qui in italia grazie mille grazie mille benissimo chiusa parentesi quindi andiamo a vedere come possiamo fare con un elemento semplice come la recinzione dell'orto a fargli svolgere più funzioni ora stacco lo stabilizzatore andiamo a vedere pronti via allora giriamo la fotocamera e vi faccio vedere cosa ho fatto io perché è sempre bene oltre che raccontarle è sempre bene falle come direbbero i toscani è una cosa molto semplice molto semplice è la recinzione che abbiamo messo in piedi per i cinghiali perché qui abbiamo qualche problemino di questo tipo una recinzione molto semplice bassa ok e questa recinzione cosa gli facciamo fare è diventata supporto per i rovi vedete i rovi che fanno di buono fanno le more quindi invece di sterminarli tutti ho deciso di usare la recinzione come supporto in modo che la recinzione mi contiene i cinghiali mi fa da supporto per i rovi e non solo si potenzia perché quando qui ci sarà una bella siepe di rovi altro che cinghiale non ci passa niente e nessuno va bene quindi come vedete stanno già germogliando io quest'anno probabilmente li poterò anche in modo che siano che sia una coltivazione razionale di more ok e questo è solo un piccolissimo esempio per far capire la permacultura facciamo un altro esempio veloce in permacoltura qua eccola qua ci risiamo vediamo un po di problemini di rete anche oggi speriamo di superarli altrimenti da domani si comincia a fare i video e non più le dirette quando succede dicevo un errore in permacoltura quello che sembra un errore in genere in permacoltura si cerca di andargli dietro ovvero di farlo scorrere per vedere quale principio virtuoso può uscire da quell'errore vi faccio un esempio capitato e poi ve ne faccio vedere uno direttamente qui nell'orto un esempio capitato a me è questo io avevo una recinzione con le faraone con le galline faraone è una recinzione con i cavalli a un certo punto le galline faraone siccome io non li volevo tagliare le punte delle ali come qualcuno fa hanno volato e sono passate nel recinto dei cavalli allora lì per lì lo so scappare di là o me facciamo eccetera eccetera in realtà cosa è successo ho lasciato scorrere l'ho lasciate di qualche giorno e sapete che è successo i tafani erano spariti da dai cavalli perché le faraone se li mangiano e comunque il faraone se lo mangia al limite sta lontano ecco anche se non vi è mangiato e questo ha senso perché poi sono andato a leggermi qualcosa le faraone in africa cosa fanno vanno dietro ai grandi animali per mangiare gli insetti e quindi da un errore è successa una roba virtuosa silvana dice sono io col problema con la ricezione no a un certo punto è andata via perché in questi giorni internet salta salta spesso allora infatti se riusciamo a fare dirette bene altrimenti farò i video e li carico allora andiamo a vedere invece questo errore che era capitato nell'orto allora io nelle settimane scorse sono stato un pochino discolo e non sono venuto nell'orto a controllare a raccogliere qui c'era il cavolo nero ok che come vedete è fiorito mi è andato a fiore ok quindi ha tolto energia alle foglie le foglie sono poche fra l'altro ve lo faccio vedere perché è proprio bello anche è poco bello da vedere il fiore e cosa ha deciso di fare ho deciso di lasciarlo andare a seme raccogliere i semi e cominciare la mia produzione di semi di cavolo nero quindi è proprio un tipico esempio questo di una situazione che uno dice accidente ho sbagliato non ci sono stato dietro eccetera e la riporta invece a situazione virtuosa va bene allora questo era per quanto riguarda la permacultura il libro e vi consiglio mi raccomando ragazzi questo è uno delle b dell'agricoltura ecologica è uno dei testi sacri proprio oserei dire introduzione alla permacultura di terra nuova edizioni è uno dei libri che mi hanno cambiato diciamo la visione la percezione anche a livello professionale insieme a quello che vi ho consigliato ieri anzi l'altro ieri la rivoluzione del filo di paglia quindi introduzione alla permacultura un po di elementi andatevelo a cercare perché una roba super affascinante che il nord europa sta spopolando si progettano case si progettano ecosistemi agricoli con la permacultura e adesso andiamo a fa un pochino d'orto è andiamo a fa un pochino d'orto se la se la linea ci assiste allora ieri eravamo rimasti con la mezza patata tagliata a mano è adesso vediamo un attimo la riprendiamo e vi ridico un pochettino come della faccenda allora vi dicevo che le patate molto grosse come questa noi da una possiamo farne due la tagliamo abbiamo il germoglio vedete eccolo qua che va messo verso l'alto invece le altre patatine che ci avevo qui da 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 seme le mettiamo intere perché sono patate molto piccole intanto saluto patrizia alfredo sarà ciao sarà grande ed eccoci qua insomma allora andiamo a vedere incliniamo il telefono in questa maniera qua andiamo a illuminare a riprendere l'aiolina fatta ieri come vedete chi non conosce lo dirà pietrino ma che cavolo stai facendo quello è molto di faglia quello è un ballone di faglia non è un non è un orto e invece chi ha seguito nei giorni scorsi saprà che questo è un orto sinergico dove si lavora solo il primo anno dopodiché il suolo non si lavora più in realtà la semina delle patate una piccola eccezione perché siccome tanto poi per toglierle dovremo muovere la terra quindi un piccolo solchettino lo facciamo ok e vi faccio vedere un attimo come allora recuperiamo la zappa e andiamo a vedere se riusciamo non ribaltare cosa allora come vedete una delle regole dell'orto sinergico è quella di non calpestare la zona dove si coltiva quindi io sto all'esterno ok e muovo la terra da qui come vedete ho spostato la paglia ho spostato la paglia lungo le tre file che desidero fare ok e muovo la terra solo nel punto in cui vado a piantare come vedete è morbidissima non sto facendo nessuno sforzo a muoverla è molto morbida molto nera perché qui è ormai tre anni che viene messa la pacciamatura molto bene quindi ecco qua andiamo a mettere la la mezza patata tagliata con la col taglio con la parte tagliata in basso il germoglio in su come dicevo ieri nel sinergico ci si può permettere di stare a diciamo più intensivi rispetto un orto tradizionale perché c'è una fertilità impressionante eccole qua quindi qualcuno mi dirà bene non muovi la terra e come si fa a rincalzarle le patate dopo che ha già coltivato patate sa che se le rincalzi producono di più le rincalzi con la faccia matura aggiungi paglia ok adesso vi porto con me a vederla questa terra che vi ho decantato ok un attimo